Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui su Spazio Games, sono XanderGamer90, questa è PES 2015, siamo sempre su MyClub. Oggi non proseguiamo il nostro Road to Division 1, oddio, in un certo senso sì, perché comunque questo è un episodio che fa parte della costruzione della nostra rosa, ma oggi facciamo soltanto Ball Opening, ovvero ingaggeremo soltanto agenti, ne ingaggeremo tanti, più che posso, perché questa settimana, anche se questo video probabilmente andrà su settimana prossima, quindi quando andrò su questo video questi agenti speciali già non ci saranno più, temo, però comunque nel momento in cui sto registrando ci sono gli agenti speciali UEFA Champions League Starts, leggo Week 1, quindi questo mi fa pensare che poi ci saranno anche altre settimane con questi agenti, comunque sono agenti ad altissima probabilità di top player, guardate le percentuali, di solito quelli di un agente top offrono un 15%, 15,6% a voler essere precisi, di probabilità di trovare un top player, quindi una palla nera, ovvero un giocatore con overhaul 80 o superiore. Questi agenti qui, allo stesso costo, quindi 10.000 GP o 250 monete, offrono quasi il 60% di probabilità di trovare un top player. Io ho pensato di dar fondo per questa settimana, mi rovino, do fondo proprio a tutte le risorse che ho e apro tutto quello che posso. Diciamo, non proprio tutto tutto, mi lascio una piccola riserva per comprare i contratti, ma diciamo che di 52.000 GP che ho messo da parte, una quarantina sono intenzionato a spenderli, più anche le monete. Quindi, cominciamo con i GP, cominciamo con il primo agente, vediamo un po' cosa succede. Guardate quanti palloni neri ci sono, vabbè, non vale più la regola del sesto pallone, questo l'abbiamo capito. Mo se con la sfiga che ho riesco a beccare un pallone dorato, dai, fermiamolo qua. Non si ferma più. Ovviamente, ovviamente, ma ovviamente. Mamma mia, che rabbia. Chi sei, forza? Fammi le. Suci. Ma chi è? Quanta pazienza, oh. Cominciamo subito bene. Dai, un altro agente. Stavolta la fermo subito. Ma non è possibile, però. Ma allora è tutto finto. Michel. No, vabbè. Adesso, se non esce una palla nera, io rosico, eh. Rosico. Vabbè. No, comunque le monete non ce le spendo. Mi spiace, ma sto rosicando veramente troppo. 60% di probabilità, io trovo solo pallone dorate. Wellington è... Togente inutile. No, proviamo a fare così. Proviamo a pagare con monete, va. Magari con le monete... Non so. Cambia qualcosa. Vediamo. No, finalmente, eh. Finalmente. Era a buon'ora. Che dira? Madonna. Certo, di tutti quelli buoni che potevano uscire. Vabbè, comunque. Non ci lamentiamo, dai. Ma io direi di aprire l'ultimo con le monete. E poi chiudiamo qui. Dai. Vediamo se l'ultimo va meglio. Sperando che sia un vero top player. E... E poi basta. Magari se faranno altre settimane con questi palloni neri, faremo altri ball opening sicuramente. Top player, finalmente. Chi sei? Va, Ivanovic. Ma ho Daniel. Ma che top player è Ivanovic? Dai, no. Facciamo la follia. Apriamone l'ultima. Dai. Prendiamo l'ultimo. Paghiamolo con i GP. Speriamo che non me ne pento anche stavolta. Dai. Buono, ma. Altro top player. Speriamo sia un top player. Dammi un campione, però. Dai. Uno me lo merito. Su. Chi è? Vai, Martínez. Vai. Vabbè, dai. Poteva andare meglio. Poteva andare meglio. Comunque. È tutto per questo buon opening. Fatemi sapere voi se avete aperto, se avete insomma ingaggiato qualche agente di questa categoria speciale in questa settimana, che probabilmente per voi che guardate sarà la scorsa settimana, comunque insomma avete capito. Fatemi sapere nei commenti chi avete trovato, se vi è uscito qualche vero top player. Io vi ringrazio per aver seguito il video. Lasciate un like se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale di spazio se non l'avete fatto. Se volete passate anche dal mio canale, il link è in descrizione. E noi ci vediamo con i prossimi video, presumibilmente dal prossimo video su PES, torneremo a fare Road to Division 1 classico, quindi con un paio di partite e un ball opening, così. Ci vediamo alla prossima, un saluto da Xander, ciao!